Io non credo che siamo, e non ho elementi per dire che siamo alla vigilia o in presenza di una crisi che nessuno per la verità ha dichiarato. Il Presidente Conte, credo oggi con la sua posizione, ha chiesto a tutti un atto di chiarezza. È evidente, io penso, che questo governo, che è il secondo in questa legislatura, in qualche modo coincida la sua fine con la fine della legislatura. Ma non credo che siamo oggi in questa situazione. Pochi minuti fa il Presidente del Consiglio, richiamando tutte le proprie responsabilità, posizione che, come ho detto, io comprendo perché credo che in effetti sia giusto a questo punto porre domande come quelle che il Presidente del Consiglio ha posto, ma non per distruggere, ma per affrontare e risolvere i problemi che vanno fatti. Mi permetto di dire, certo lei ha ragione sul metodo, figuriamoci, però è molto anche importante sul merito. La differenza sostanziale tra agosto 2019 e gennaio 2020 è che ad agosto 2019 le famiglie italiane rischiavano di essere devastate da una crisi economica e fiscale che ne metteva a rischio l'esistenza. Fra qualche mese 19 milioni di italiani avranno in busta paga 100 euro in più di stipendio. Chi ha bisogno di cure non pagherà più i ticket.